Oggi in studio con noi due studenti, un IPD, non so se avete già finito o no, adesso questa è un po' oscura come roba, però di sicuro avete fatto una tesi in Cina e non nello stesso periodo, non nello stesso posto. Insomma, ciao Eugenio, ciao Gaetano, benvenuti in l'introduzione più lunga della storia, però il tema è complicato ma affascinante, siete i primi due studenti dell'università di Padova a fare una tesi magistrale in Cina, non la stessa tesi dicevamo e non nello stesso posto, com'è andata, dove siete stati, chi parte? Partiamo da Gaetano dai. È stata un'esperienza fantastica, penso che sia l'esperienza che mi ha segnato di più e che poi mi segnerà e mi cambierà. Miseria, la tocchi pianissimo. Devi essere sincero. Bene, tu sei stato nella regione di Guangzhou. La regione si chiama Guangdong, la provincia, la città è Guangzhou, che sarebbe Canton. Ok, che sarebbe Canton. Lì di cosa ti sei occupato, di cosa parlava la tua tesi, ce lo spieghi? Allora, io mi sono occupato di cambio di uso del suolo negli ultimi trent'anni utilizzando immagini telerilevate, quindi immagini satellitari. Ok, quindi hai studiato un po' dal punto di vista geologico, aspetta, il tuo corso è scienze e tecnologie agrarie, quindi forse dal punto di vista più... Non tanto geologico quanto magari più paesaggistico, se vogliamo dirla così. Ok. Quindi come in trent'anni un certo terreno si è diventato magari da agricolo a urbano oppure da foresta a terra coltivata per anche poi mappare l'evoluzione della città. Ok. Perché chiaramente va di pari passo con quello che è l'espansione principalmente demografica. È sempre una cosa interessante vedere come le persone ti spiegano la propria tesi come se ormai parlassero di sì. E tu sei oddio di cosa stai parlando. Rimango un po' eugenio con Gaetano perché mi ha dato questa risposta pazzesca di grande entusiasmo. Voglio capire come mai ti ha segnato, ti ha cambiato la vita. Ma considera che tu ti trovi catapultato nell'arco di 15 ore, perché tanto dura più o meno il volo, più fuso orario, in una realtà che è completamente aliena. Tu ti trovi a essere un alieno in mezzo anzi una persona normale in mezzo agli alieni, volendola vedere dal nostro punto di vista occidentale. Poi in realtà siamo il contrario. Se siete andati su Marte, non so se eugenio vale anche per te questa cosa. Una cosa allucinante anche per me. Veramente non pensavo, è un mondo completamente diverso e anche affascinante proprio per questa sua diversità. Tu poi sei stato a Pechino. Io sono stato sì, solo a circa 3.000 chilometri. Pechino città. Quindi forse adesso non so, non ho presente la città di Canton come sia, però credo che come dimensione e come impatto la città di Pechino sia una bella schiaffone. La città di Pechino è circa 21 milioni di abitanti. Ecco. È una città immensa e piena di gente. Troppe persone veramente. Infatti anche una cosa, sì, si arriva appunto anche io dopo quelle 12-13 ore di volo. È un mondo pienissimo di gente, è un mondo completamente diverso e è appunto veramente affascinante. Tu ti sei occupato di una cosa che forse se pensiamo alla Cina, la tecnologia, i gadget, c'è un gancio più facile perché hai usato dei droni. Dei droni, esattamente. Il tuo corso si chiama Scienze Forestali e Ambientali. Ambientali, esattamente. E di cosa ti sei occupato? Il mio corso più che altro si occupa di protezione del territorio e appunto io sono andato a studiare praticamente un'analisi e la quantificazione dell'impatto dell'essere umano sulla terra. In particolare sono andato a studiare delle cave, presente quelle grandi cave che scendono sotto terra. Con i trattoroni giganteschi. Con i trattoroni enormi, ecco, con le cave lì. No. E appunto usiamo questi droni che sono questi giocattoli volanti. Sì. A cui si mettono delle fotocamere e delle cose simili, ecco. E per poi riuscire a farci delle analisi. Quindi praticamente siete due osservatori della situazione, cioè in maniere diverse. Siamo andati a guardare. Io sono uno stalker ultraterreno che dall'alto guardo tutto. Lui è ancora più dall'alto. Tu sei un po' più basso, però è joystick che lui non ha. Ah, lui è più divertente però. Dopo i primi, solo i primi metri, per fortuna, perché se dovessi pilotarlo solo io farebbe una brutta. Ah, quindi è copilotato oppure? A me hanno insegnato praticamente prima come costruirlo, proprio da uno scatolone pieno di viti e di cose a me sconosciute, fino ad avere un drone. Quindi hai fatto l'assemblaggio anche. Sì, mi hanno insegnato proprio l'assemblaggio. E poi soprattutto come pilotarlo e come farlo diventare utile, ecco, ai nostri scopi, ecco. Ok. Ragazzi, poi so che voi vi siete già visti naturalmente prima di questo incontro. Non so se avete già parlato delle differenze di esperienza che pure avete avuto essendo andati in posti diversi. Vi siete confrontati di qualcosa che vi è piaciuto di più, di meno ah, mi sarei piaciuto fare questa cosa, io quell'altra, non so se è successo. Considera che più che le differenze forse sono i punti in comune. Anche io volevo dire proprio quello. Soprattutto nelle persone. Sì, sì, specialmente per esempio. Ma mi stai chiedendo una cosa enorme. Il più particolare, quello che ti ha proprio... Oh my god. La cosa particolare, se vogliamo rimanere sempre nell'ambito universitario, poi magari dopo possiamo parlare di altro, che per esempio loro, a differenza nostra, non hanno degli orari precisi, definiti, in cui tu la mattina vai alle nove in ufficio, finisci a luna per la pausa pranzo, poi riattacchi. Sì. Loro sono capaci di fare una giornata intera di lavoro estenuante, dalla mattina prestissimo, fino alla sera alle undici. Ok. Alternati a periodi di torpore. Completo. Tipo le targone... Ma è un altro modo di lavorare. Loro fanno tutte le loro cose, le fanno anche bene, semplicemente hanno un diverso modo con cui si approcciano magari al lavoro. Non saprei proprio come definire. E tu Eugenio ti sei trovato, ti sei adattato un po' a questo stile? Sì, assolutamente, assolutamente. Anche lì all'inizio magari noi siamo abituati, si va in ufficio alla talora, si inizia a lavorare, poi magari si stacca per il pranzo, lì invece si arrivava in ufficio, si cominciava, poi si andava a mangiare, è tutto molto più... Poi magari... Un po' giamaicano ogni tanto come... Sì, però poi il giorno dopo diventa molto più che tedesco perché cominciano e dobbiamo finire entro domani mattina, allora... Semplicemente fanno tutto bene e lo fanno in una maniera diversa. Sono diversi in tutto sul lavoro, sul cibo, sul muoversi in giro per la città. Sì, madonna. Semplicemente bisogna adattarsi e lasciarsi un po' trasportare magari. E c'è una cosa che magari, a parte questa cosa universitaria, anche proprio a livello di esperienze che avete vissuto, che dite anche noi potremmo fare così. Tutto sommato noi non la facciamo tanto bene, questa roba l'ho imparata, lì mi piacerebbe... Oppure che continuate magari a fare qua, non so, avete preso un'abitudine... Beh, una cosa molto bella secondo me è che sono... Su tanti punti di vista magari noi non riusciamo bene a capire il perché fanno certe cose, su altri punti di vista invece sono anche magari più avanti di noi, ad esempio usano il cellulare per fare qualsiasi cosa, anche per pagare, però in un modo che secondo me è tutto il contrario di tutto. Loro lo usano o in modo, ad esempio, anche in questo appunto per il cellulare, oh è comodissimo, pagano solo con quello. Sì. E poi si vedono praticamente questi cinesi che vivono su WeChat, ma veramente vivono su WeChat, e quindi è tutto il contrario di tutto. Sì, WeChat è, per chi non lo sapesse, un po', la chat è il Whatsapp cinese, che lì non ci può andare. Esatto, esatto. E quindi su tante cose, ecco, magari noi potremmo imparare su gli aspetti positivi della tecnologia, come ad esempio appunto il pagare, il prenotare al ristorante, cioè io non avevo mai visto, cioè anche si prenota tutto. Sì, assurdo. Tu vai al ristorante, ti siedi, prendi il telefono, scannerizzi il QR code del ristorante, ti si apre il sito del ristorante, tu inserisci cosa vuoi prendere, con tutte le immagini, clicchi invio, paghi. Quindi è come se rubassi il tablet della cameriera praticamente. C'è un cameriere virtuale, ma tante cose sono belle, tante cose invece... Tu ordini e contemporaneamente paghi, ti arriva il cibo, mangi e te ne vai. Ho capito. Vabbè, forse si annulla un po', adesso sembra un cliché di questa cosa della Cina, però forse il rapporto umano perde un po' di questa cosa qui, o anche nelle dimensioni che dicevi tu prima, il fatto di avere grandi numeri o comunque con le persone cinesi che avete incontrato, magari dopo un primo momento normale di conoscenza, si riesce ad entrare in empatia, non si riesce... Allora, ti dico, il problema principale che ho avuto io e che anche lui ha avuto, poi su questo ci siamo confrontati, è quello della lingua. Cioè, per dirti, pochissimi parlano bene l'inglese, quindi tu hai anche difficoltà a stabilire un certo rapporto di empatia, però una volta che cominci a farlo, una volta che loro ti vedono come un pari, dello stesso età o dello stesso livello scolastico, riesci ad entrare veramente tanto in empatia con loro e diventi proprio amico. È vero, anche io ho trovato proprio un popolo davvero tanto ospitale, io non me l'aspettavo proprio... Solito l'idea che si ha, che insomma sono un po'... Sì, un po' distaccati magari, all'inizio infatti uno arriva a città completamente diversa, nel mio caso poi appunto, come sì nel suo, ma a Pechino soprattutto è caotica, all'inizio mi dava un po' l'idea di freddezza magari, i primi giorni dicevo mio Dio dove sono finito, poi in un attimo davvero ho avuto, mi sono circondato di questi ragazzi dell'ufficio alla fine, mi hanno trattato proprio come un fratello, neanche come un amico, mi hanno aiutato in qualsiasi cosa da venirmi a prendere in aeroporto, a cambiare poi i soldi, a risolvere magari piccoli problemi quotidiani, come caricare la tessera della mensa, che può essere una cavolata se magari sai... Se non conosci gli ideogrammi potrebbe essere scoperto. E io veramente ho trovato un popolo ospitale e che davvero ci tiene, ci viene davvero tanto, affinché l'ospite stia bene. E invece dal punto di vista del divertimento, del tempo libero, immagino che avrete girato un po', avrete visto qualcosa, lì forse possiamo insegnare qualcosa a noi, un po' di presunzione lo dico... Ma dipende, ecco, anche qua dipende molto, perché io per esempio nell'arco del mese che sono stato lì, sono stato una settimana in un'altra provincia, perché sono andato insieme al professor Tortarolli, che è venuto con me per i primi 15 giorni, che ovviamente ringraziamo per questa opportunità che ci ha dato. Non è qui oggi, però rimedieremo. Però è come se ci fosse. È vero, è sempre con noi lui, vero. Sono stato una settimana nello Yunnan, una provincia più interna al confine col Vietnam, in questi posti ho visto delle cose assurde. Ah ma è questo, un uomo, dico a te che lo conosci bene, stagli vicino, perché credo che non si riprende più. Un giorno non mi trovate più, sono in Cina. È là, è là. E quindi ho avuto modo di vedere aspetti diversi della Cina. Ok. Diverse facce dello stesso paese, anche se in realtà è un continente per quanto è grande. Sì, sì, credibile. Però persone diversissime, sempre cinesi, ma completamente diversi. alcuni molto freddi, distaccati, che mettevano un po' di distanza tra te e loro, forse anche per una questione linguistica. Altri che, nonostante la questione linguistica, usando poi persone cinesi che sapessero parlare inglese, diventavano praticamente amici come se fossero di vecchia data. Sì, sì, assolutamente. Non ci vediamo dall'asilo, però parliamo tranquillamente. No, no, cose veramente anche con me. Forse Gaetano, c'è questa cosa che noi siamo abituati a vederli, immagino, per una reazione automatica, come un blocco unico, no? Sì, è vero. Tornerete? Adesso forse questa è una domanda difficile perché riguarda un po' il futuro e dopo la laurea so che c'è un momento un po' di… Inizia un po' il buio, bisogna sapersi muovere. Vedremo, vedremo. Io sicuramente tornerò. Anche io, sicuramente. Sicuramente. È stata un'esperienza incredibile da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista lavorativo, comunque anche… Sì. Soprattutto dal mondo, perché è un mondo completamente nuovo, completamente da esplorare, no? Ma sì, ma poi ci sono talmente tanti posti belli da vedere. Che poi gli stessi ragazzi che ho conosciuto lì mi hanno fatto vedere foto e video di altri posti della Cina. Quindi ti è andato a vedere di papà il cervello. Sì, sì, sì. Ma guarda, ti giuro, stesso loro mi dicevano quanta voglia avevano di andare a vedere questo posto del loro paese perché non c'erano mai stati. Ho capito. E quindi ho detto, beh, ci devo tornare. No, perché davvero è una concezione talmente grande, cioè è tutto completamente diverso. Anche magari parlavo con degli amici, dicevano ma quanto ci metti a tornare a casa? No, gli dicevano, eh, magari sono tre, quattro ore di treno io. E tu quanto ci metti? Eh, quattro, cinque ore di aereo. Allora io avevo momenti di panico e loro effettivamente dicevo che sì. Mi va anche abbastanza bene. Anche tutta la nostra concezione di distanza, di… Per loro non… Devi aumentare la scala di otto volte. Mi hanno persino detto guardando la cartina, ma che bello, tu abiti vicinissimo al deserto del Sara. E io ho detto, è vero, insomma, abbastanza. Però per loro era vicino. Ma sì, cos'è? Duemila chilometri? E faccio… Tranquilo. Non lo so. Tranquilo. Duemila chilometri li faccio per andare a casa ogni due mesi. Ah, ok. Mamma mia. Ragazzi, allora, tirando un po' le file di questa intervista che è molto interessante, ci dà tantissimi spunti ed era forse anche un po' la nostra idea, quella di farci stuzzicare perché, come avete sottolineato benissimo, raccontare tutto, o vi chiudiamo qua dentro però volete andare in Cina quindi non lo possiamo fare, vi chiudiamo qui, però siamo contenti che, insomma, l'università riesca a organizzare delle cose didatticamente interessanti però che hanno un risvolto, adesso questa è la sparo grossa, che dal punto di vista umano ti danno quell'attacca in più. Ma non è la sparata grossa, è proprio così. Sono esperienze poi che se non si fanno ora, difficilmente magari, sì perché magari in Cina ci si può andare per turismo, però è diverso che vivere proprio come loro, andare nelle loro mense, andare nei loro ristoranti. Noi abbiamo vissuto come dei cinesi, non come dei turisti italiani. Questa è la frase che potrebbe il compendio finale. Noi facevamo tutto ciò che ci dicevano, semplicemente. Non eravamo cinesi, non eravamo turisti italiani, eravamo cinesi con gli occhi troppo grandi. Esatto. Che spettacolo. Va bene, allora questo è anche il titolo, eravamo cinesi con gli occhi troppo grandi. Grazie mille Eugenio Gaetano, grazie a voi, grazie a Lupo per la vostra carriera e ci vedremo in Cina, andiamo tutti insieme. Tanto non è così lontana quanto si pensa. Hai fatto, 2000 kg. Grazie mille Eugenio Gaetano, 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 gra